Lei ha detto che forse lo Stato potrebbe fare qualcosa in più, invece di commemorare, limitarsi a fare questo, potrebbe dare un segno tangibile? Sì, lo Stato dovrebbe fare tanto, ma forse proviamo a chiederci quello che possiamo fare noi, perché lo Stato sta facendo quello che può fare, lo sta facendo con tanti handicap legati a un sistema che a volte funziona male, ma probabilmente in questi contesti, anche in questo contesto sociale, culturale come una scuola, dobbiamo domandarci quello che noi possiamo fare. È stato costretto ad allontanare dalla Calabria i suoi familiari, però lei ha detto un giorno torneranno loro, perché la Calabria non è una terra di indrangheta, ma è una terra che può esprimere tanto. Il Sud, come tanti Sud, è un Sud che a volte è diventato un luogo comune, figlio di bruttezza, ma la Puglia è una delle dimostrazioni di come un Sud stereotipato come luogo di bruttezza è diventato eccellenza, sinomone di bellezza, di prosperità, di sogni. La Calabria è una di queste terre che ancora deve riappropriarsi della propria dignità. Grazie a tutti.